Padre, veramente santo, a te la lode da ogni paura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e Rosa Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifici l'universo, e continui a donare intorno a te un popolo che da un buon fine nell'arco della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora, ti preghiamo vilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questo mistero. Nella notte in cui fu predito e li prese il Padre, ti resi grazie con la preghiera della nazione, lo spesso, lo diede il suo Dicepoli e disse, prendete e mangiatele tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.